E' terminata la partita del campionato Nero 21 tra Real Cornaredo e Arona Calcio 5. E' qua con noi Davide della Rona mentre vediamo i suoi due gol e gli altri. A lui chiediamo un commento su questa gara. E' stata una partita molto difficile soprattutto all'inizio perché non eravamo abituati al campo essendo molto grande ma con il discorso del mister tra il primo e il secondo tempo siamo entrati con la carica giusta e siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Ti ringrazio Davide per l'intervista e ci vediamo sui campi di Calcio 5. Grazie a voi, forza Arona! Ed ora per il Real Cornaredo qua con noi Artem. Mentre vediamo le azioni anche lui chiediamo un commento su questa partita. Sì, il primo tempo l'abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo ratto fisicamente. Peccato per l'errore nel finale. Il secondo tempo siamo partiti un po' moralmente stanchi, non carichi come il primo tempo e abbiamo subito tre gol di fila. Poi voglio ricordare che noi siamo una squadra allievi. Questa era una squadra Never 21 dotata fisicamente. Quindi abbiamo preso il soprassalto su di noi. Comunque ce la siamo giocata e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Ti ringrazio per l'intervista e ci vediamo alle prossime partite. Ciao e Forza Reale!